O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo nuovamente, totalmente, sinceramente a Te. Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. Ripeti a Gesù, per noi, il non hanno più vino che dicesti per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. Ripeti a Gesù, non hanno più vino, non hanno salute, non hanno serenità, non hanno speranza, tra noi ci sono molti ammalati, alcuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti anziani soli e tristi, consolali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti adulti sfiduciati e stanchi, sostenili, o Maria Ausiliatrice. Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascun di noi a farsi carico della vita del prossimo, aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze e le vie, ma non riescono a riempire il cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia. Aiuta le persone consacrate perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio, aiuta i sacerdoti, perché possano comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. Aiuta gli educatori, gli insegnanti e gli animatori, perché essi hanno aiuto autentico alla crescita. Aiuta i governanti perché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona, o Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa, secondo la parola di Gesù in croce. Proteggi la vita in tutte le sue forme, età e situazioni. Sostieni ciascuno di noi perché diventiamo apostoli entusiasti e credibili del Vangelo. E custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore, ogni persona che alza verso di te il suo sguardo e a te si affida. Amen.